Pagina online, buongiorno, sono Tiziana, cosa posso esserle utile? Buongiorno signore, io tengo un problema. Dite, dite. E vado a cercare un negozio, a parte il carro, sono qui. E dove state voi? Sto qua, non puoi dire, ero stucco. Cominciamo bene la prima mattina. Se magari mi dà qualche piccolo indizio, io cerco di poterlo aiutare. Sono a Salerno. Ho capito, a Salerno. Allora mamma è fatta nuova. Ah, che è successo? Eh, mi sono lavata la biancheria, è fatta un bucato, ma si fa questo, è asciutto tutto bucato. Ma è rimasta senza casettina, con mare fritto. Oh marrona mia, con questo fritto, senza casettina. Mamma mia, mi ha dato i soldi, ha detto, vado a cattare i casettini, ma questo negozio non lo trovo. Vuole sapere cosa sto? E aspettate un attimo, trovo a me una cazza di casettina, scopate. Eh, trovate, trovate. Cazzettini. Hai trovato? Ho trovato. Ah, c'è trovate. Cazzettini, via Vittorio Veneto. Eh, chi è questo Vittorio Veneto qua? Allora. Ma io Veneto non c'ho stungo, che sto qua a Salerno. Sì, ma via, si chiama via Vittorio Veneto. Eh, ma Vittorio è questo Veneto, a me mi serve a qua negozio di casettina. Eh, vabbò. E facendo una pioggia in vento a cattica Cazzettini. Ma qua viene, che è nata l'opera. Io non puoi mettere in forno a me a rostare questo negozio. E che siete uno pullostro che va a rostare in forno? Ma perché lo pullostro ti mi ha messo a mettere pure i cazzetti. Eh, può essere. Io, non ci puoi mettere a rostare questo negozio, se no mia mamma va a vattere. Ok, vi ho detto, dovete andare via Vittorio Veneto a Salerno. Eh, è rostato. Avete presente dove sei salato tu? Sì, sì. Quello che gira. Eh, gira sull'essi. Non è là, e sei tutta nata a parte. Ah, ho capito, è nata a parte la rostola. La strada è dietro. Dietro a chi, signore? Dietro la strada davanti. Voi non dovete parlare difficile. Ma le sto spiegando io. Perché io sono un po' ignorante. Eh, me ne sono un po' accorto. Eh, voi, io non posso pure un po' parola. Eh, c'è una parola. Allora, vuoi riuscire a rostare questo negozio, signore? Allora, non mi riuscire a fare senza cazzetti, non vorrei. Ho capito. Allora, via Vittorio Veneto. No, salere. No, salere. No, no, salere. Vabbè, è stato salere. È stato salere. Hai capito, chi ha? Stato salere. Stato salere. Stato a chi ti andrà mai. E io devo accettare i cazzotti, sennò la vena apre. Vabbè, grazie, signore. Mi vado accettare subito, subito. Eh, facci tutto adesso. Vabbè, grazie. Prego, arrivederci. Arrivederci, signore. Arrivederci. Che gente. Grazie. 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 Grazie.